Salve ragazzi eccoci qua, allora dovrebbe essere ristabilizzato tutto, speriamo, e segui Dai vieni così esci fuori da quella cosa, ok Ah quindi lo devo fare ogni tottempo, quindi non mi seguirai per tutto il tempo, no fammi così, mi metti ansia, ciao Allora ritorniamo, la mappa comunque non devo fare più nulla infatti, esatto, meno ma, perché adesso che dobbiamo fare? Uh dottor stranger staccate Ah giusto, vabbè Ora posso finalmente andare qua Oh Ah finalmente Eureka, vediamo un po' A differenza delle missioni storie, le missioni generali sono affittate ad altri eroi e non ad Hunter, ok Hunter può partecipare a queste missioni ma non fondamentale Ah le missioni generali si possono affrontare in qualsiasi momento Allora questa è la lore Allora ci conviene fare prima questo Vedete con Blade Facciamo quella con Blade e mettiamo come altro personaggio giusto perché Hunter la voglio mettere No anzi niente Hunter Mettiamo Iron Man E usiamo finalmente Miko Sono, sono curioso come si evolve la cosa Ecco Guarda come vanno Tan 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 Ok basta smetto, scusatemi Ora vediamo come sono Che importante per me A mio punto di vista ci sta a farlo Però non so se mettere Hunter Vuol dire aumentare l'amicizia o meno Perché questa cosa è da capire Perché se non c'è nessun rapporto di amicizia Che nasce allora vuol dire che Devo mettere Hunter, non dico obbligatoriamente Ma conviene metterla E cose varie Mo' vediamo Perché secondo me aumenterebbe il livello Sapete Ok io sento Cassini Però non vedo niente Uh un'altra volta l'elicottero Disabilita l'elicottero Ok Il mio mouse è qua No guardate chi si è messo Lo scudo di protezione maledetto Ok Ritardo l'elicottero Perfetto Ok per via Ah che Nico Eccolo qua Per via del suo imprevisibile bastone dell'uno E abilità di Nico possono avere effetti causali Ecco qua Questi effetti sono determinati dal momento In cui viene pescata le carte E vengono indicati della parola chiave Roulette Roulette Hey buongiorno Hey buongiorno Iron Man Spendere un riperraggio su alcune abilità di Iron Man fornisce bonus di gioco alle abilità in questione Ok come danni aumentati Oh e beh giustamente Oggetti di combattimento Hai acquistato un oggetto di combattimento Usa spazio per accedere agli oggetti Ok Ok Ora io voglio vedere una cosa Questo che cos'è Contraattacco Vulnerabilità E poi Un'altra vulnerabilità In che senso Voglio vedere un attimo Vedi che si danneggia Vulnerabilità Allora togliamo di mezzo Questo Voglierei pescare Ah ok Ho il coso della cura Meno male Allora Maggete il sangue Contraattacco Ah Lei è una curatrice Eh buongiorno Oh Allora Lei rischia Eh Ma se io mi mettessi qua Sì perché sto guardando Perfetto Forse posso fare qualcosa Nooo Cavolo Mi sono Ho sbagliato Ah vabbè Eh Pazienza Ho sbagliato Vabbè Oh mo mi regalo Ah vabbè Ripescaggio Oh grazie Grazie Ok Ok Interazione Grande Grande Ah però Sono di livelli altissimi Ah non lo posso fare Vedete È il rosso Che mi dice Ok Ah sì posso Che ho Grande Oh grande Ok Più di questo Non posso fare nulla Più di questo Non posso fare Proprio nulla Quindi Niente Finito Vediamo un po' Aia Ok Ma sono pure dei bei tank Che Mi hanno Dei cacchio di tank Mi hanno Stordito pure Che bello Un rinforzo in arrivo Cavolo Cominciamo bene Eh Ok Lascialo distruggere Quello Maledetto Che Keep it up Real intimidating Ok Il vero problema è che questo coso Dà un fastidio Che ha una buona difesa Devo togliere di mezzo Tutta sta gente Sanguinamento ottimo Lo so È l'unico modo Per un altro togliere di mezzo Mizzica Quanto gli posso togliere Ok Eh perché gli ho togliato scudo A quel male Questo esplode Ecco Fanno male È ovvio Madonna Dimmi che No Mi ha ucciso Pure Ma che razza Madonna Fortissimi Ok Grazie che mi hai messo Quella cosa lì Ragazzi Eh Ho un po' Eh Ho capito Ma non è facile Allora Ok 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 A me non mi interessa Basta quella macchina Ok Ok Oh finalmente Ok Ok sto un attimo pensando raga è un casino Voglio Ah posso rianimare Ah posso Uuuuh non lo sapevo Fermi tutti Posso fare una cosa Ora avete capito che ho fatto E' l'unico modo Peccato raga peccato Che io non posso fare più nulla Questo sta per partire Ma è un casino ragazzi Dimmi chi fa il contrattacco Dove mi sa che fa il contrattacco Bella Quindi vuol dire Aia Brutto colpo Madonna Ah si sacrifica questo Ok Non si potrà trasacriticare da un'altra parte Sanguinamento è morto Grande Aspetta Meno male Ce l'ho fatta Se tolgo di mezzo Magari questo Ah o giusto Non posso Ok 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 Tanto Quello esplode Lei si è ripresa Rimosso stordimenti Andata E' ancora vivo Non ci credo Aia Iron Man e K.O E' ancora vivo Il helicoptero è tornato a action Fini Nel Questa No Ho Mi Te Mi 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 ora è capito grande ok peccato che non posso fare più nulla oggettoriale figure ce l'avevo eh però ho sbagliato eh perché dovevo curare ho sbagliato è troppo tardi ma è stato tostissimo non me l'aspettavo è stata tosta niente ragazzi ferma l'elicotteria è stata tosta non me l'aspettavo troppo tosta non me l'aspettavo no sono troppo tosti è stata vediamo di rifarla non me l'aspettavo ma forse devo cambiare team perché non me l'aspettavo proprio allora nico andava bene iron man top deboli devo mettere mi metto faccio così ah devo riconcire poi così di nuovo allora una valuta fori uno fori due ok ah posso fare fra loro però a sto punto mi conviene lei controattacco obligatorio così qualsiasi chiunque mi attacchi posso posso far fuori forse in maniera anche diretta eh situazione situazione te ok ok questo deve essere bene ok 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 forse 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 e sottolineo forse può andare molto meglio così si perché il mio trucco è togliere di mezzo questo questo anche ecco quindi vediamo un po' ok contrattacco ok peccato che il contrattacco oh tutti contro di lui tutti e che cavolo pure avete vi siete accaniti su di lui eh è gravemente ferito let's do it Ok, non scusate, sono un po' concentrato. Ok, forza sbaglia. Questo non era il tuo rafforzamento. Ok, applica due rafforzamento. Questa è un po' concentrato. Eh, aia. Eh, aia. Oh, tutto quanto. Qualcun altro. Aia. Eh, sì. Ma era al centro dei nemici. Non mi sorprende. Pure altri. Quanti cacchio di rinforzi. È un'esagerazione. Pure. Vai al suicidio. Vai al suicidio. Eh, non lì però. Il helicóptero si prepara per la scuola. Abbiamo ancora un po' di tempo. Assurati che non lo ignorate. You asked for it. I think you got him. Ok, no, prima di ciò lo voglio togliere di mezzo a questo. Ma critico no, eh. Troppo maestream critico. Quello lo dobbiamo battere in qualche modo. Mizzica. Eh, Iron Man è conciato male. Siamo un po' messi male un po' tutti. Vediamo un po' la nonna. Lascio esplodere quegli imbecille. Lei non può più contraattaccare, presumo. Mennomale che... Eh, no, col cavolo perché sono tutti critici. Eh, vabbè, dai. Ora sono troppi. Sono troppi. Ah, sanguinamento lui, eh. Qua non ci deve stare. Vabbè, lo so. Aspetta, il mouse... No, che ci fai qua? Eh, ecco, Ricky. Livello... Tutto zero, raga. Questo è... O lavalo a spaccare. Cura. Abbattete... Lo... Lo... Disgraziato di turno. Assa fa. Rallentiamo quello a cacchio di... Carta, per favore, eh. Non t'azzardare, proprio. Eh, ho finito i turni, raga. Eh, è tosta, ragazzi. Perché mi metto troppi nemici. Infortunio. Eh, lo so. Aia. Indebolimento. Tutti qua. Tutti. Aia. Ah, fallo esplodere davanti all'elicot... Bravo, fallo esplodere davanti all'elicot... Bravo. Così fai danni. Merda. Sanguinamento. Mori. Mori, brutto strano. Eh, ho capito. Mezzica, che casino. No, 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 no. Ah, ecco come si faceva. Non abbiamo capito che funziona così. Uno. E due. Tanta roba. No. Aspetta. Qui. Mi ha stancato. Oh, quello è il più fastidioso, ragazzi. È il più fastidioso. Mettermi uno come quello, che protegge giustamente... Niente, ragazzi. Niente, ragazzi. Stavolta ci avevo... Niente. Non è... Non è facile. Non è facile. Torna al menu principale. Ferma l'elicottero. Non è facile. Non è facile. Stavolta avevo fatto molto bene il gioco. Il problema è che dobbiamo abbattere quello maledetto. Dobbiamo abbattere quel maledetto. Dobbiamo abbattere quel maledetto. E ci serve ante perché cura. E ci serve ante perché fa spinta e cura. Perché torna al menu? Aspetta. Mi sono perso. Ah, sono ripar... No, aspetta. Che ho sbagliato. Che ho cliccato. No, mi ha fatto usci... Ah, ok. Ah, quindi la devi fare per forza. Ah, ormai la missione l'ho scelta. Cioè, è del tipo non posso tornare indietro. Farla per forza... Ah, hai capito. Lo devi fare per forza. Vabbè. Ho capito. La devi fare per forza. La devi fare per forza. Eh, c'è ma la sto sudando, eh. Eh, no, infatti pensavo di tornare indietro. Invece ricomincia in... Devo farlo per forza. Tosta. 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 Oh. Allora, facciamo così. Andiamo prima qua perché non finiamo... Così non finiamo in mezzo ai miei. Togliamo loro due. Ok. Ok 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 No, non puoi fare nulla O forse sì No Sì però mi toco da lì eh Cioè del tipo Ho fatto però mi sposto di posizione Eh Sì perché il trucco è anche mettersi in posizione Non è che Il mio errore è quello è stato Stappiamo il turno Ahia Eh ma prendiamo di me a tutti Oh ma tutti qua si concentrano su uno specifico Ahia Eh Troppo bastardo Rinforzi l'arrivo Dammi qualche minuto prima Cav... Guarda lì Là ci vuole una bella boba Contrattacco pure No vabbè mi hai messo il contrattacco a sto disgraziato Piano Pianuto togliamo Togliamo questo No No cosa ho fatto No ho sbagliato Che cosa ho cliccato No Ho premuto X per dire fine turno No è sbagliato Ho sbagliato È errore mio Me è culpa Me è culpa Ho premuto X che vuol dire fine turno Invece io dovevo premere R Ho premuto X Infatti mi stavo chiedendo perché non sta Non mi sta sostituendo Errore mio Me è culpa Vabbè ragazzi Ho sbagliato di brutto Ho sbagliato di brutto Ho sbagliato Ho sbagliato Ho premuto X involontariamente Quindi è un sulco È un turno Un turno Vabbè Vediamo se riesco a caricare Vediamo se riesco a caricare Almeno Prima di fare X Involontariamente Se mi fa fare Purtroppo Sì Ok Ok Devo stare attento Allora Volevo sostituire questo E questo Eh cavolo Roletto è pericoloso Ok Contra attacco Iron Man Perché lei è un supporto Capito Contra attacco Lei Ora ho capito come funziona Non avevo capito come funzionava Tolto di mezzo Almeno Tre Bello Bello Però te Invece Iron Man No Io voglio che tu ti sposti Ah guarda era perfetto Guarda dove si trova Eh Eh però è pericoloso Tutti lo prendono di mira però Eh no No chi è che lo prende di mira Ok no E niente vediamo un po' Come andrà a fine Fine turno Contraattacco Ok Eh lo sapevo Ma solo uno Ah no due Ecco appunto Bene Ah me l'ha stortita E basta con sti rinforzi So troppi Che cavolo No veramente I rinforzi Sono tre So tre rinforzi Ma sono troppi E ho capito Che sono feriti Però I'm used to being up I'm used to being up The helicopter is preparing for takeoff We still have some time Make sure you don't ignore it This shouldn't take long You guys should talk to your union I don't think you're supposed to be fighting on our level yet Let's do it I heard Lilith It's kind of hot Any of you dorks make a move yet? Did you miss me? I'm saving my energy Until we need it Fail Smydra Scusate Non riusci a parlare Stavo pensando Per forza Ecco Ecco ora Ora forse si potrebbe fa' qualcosa Bello Ancora il contrattacco Bello Ok Ok Bello Distordimento Un'altra volta Non può contrattaccare Quella protezione sta rompendo Ora Non sembra che molto Il helicopter è in attenzione Finita Se abbiamo la chance Ora si che si ragiona Ora 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 Tu mi hai rotto Però devo togliere di mezzo Prima Quello raga Cavolo Ehm Roulette Cavolo Di nuovo Assafato Ottimo e mezzo Eh ragazzi Però Questa però Si chiama sfiga Però Perché sta per partire L'elicottero Raga E basta Poverina La state massacrando Questa è And I thought man Eh ma non posso infatti Ho rallentato un po' l'elicolo No e vabbè che cavolo Sta diventando impossibile la cosa Sta diventando impossibile la cosa No no è allucinante Devo trovare un modo per abbattere quello la Non posso battermi solo il tank Perché sennò è un casino Mi servono le spinte per buttare giù Allora Perché mi servono le spinte per buttare giù Allora Questa era andata bene Non mi servono le spinte per buttare giù No cavolo volevo fare il contrattacco è vero Volevo mettere il contrattacco Vabbè Ehm 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 Ok almeno questo a posto Finiturno Tanto mo chiameranno altre unità Ahia Oh Se avessi avuto il contrattacco faccia a tutti Purtroppo non è stato fattibile Perché non ci ho pensato I rinforzi Ovviamente Ah lui contrattacco Beh meglio così Protezione un corno guarda quello Purtroppo 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 Guarda quanti ad Iron Man Se tutto va bene Guarda tutti Iron Man Ehm Solo uno è contro Blade Nessu Tranne Eccetto questo Idiota Eccetto questo Idiota Eccetto questo Idiota Ok 1 2 3 Ok 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 Movimento No Movimento va bene Le Ehm Ok Movimento niente Iron Man Iron Man Quindi contrattacco E tutti Iron Man Qua lo massacreranno tutti Ok Vediamo se resiste Eh si La situazione Ok Calentamento Contrattacco Ok Spara Colpito Colpito Dai no E' ovvio Quello stordisce Quindi non può fare il contrattacco Ovviamente Ma ero sicuro che avrebbe Contrattacco Contrattacco Dimi Chiedo Ah eh Contrattacco Non esplosione Quando serve l'esplosione No Allora 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 Non mi scocciare Non vedi che sono incasinato Smettila Parli troppo Ora Sono troppo concentrato Per altro Grande Allora 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 Quattro Quattro Ora Sì Che ti fa Mi sono fatto Mi sono incazzato Ok Ok Non posso più fare nulla Però Aspetta No Posso Posso Perfetto Sì perché Più ci togliamo di mezzo lui Ah Ah Giusto Ho fatto una cazzata Vabbè Vediamo un po' Bella Fuori uno Poi Ah Ancora il contrattacco Perfetto Abbattiamo quello Con Con Madonna Ha colpito il compagno Guarda che bastardo Se ne è sbattuto proprio Ah Contrattacco lui Ah Vuoi pure esplodere Ah Sanguinamento Ah Così impari Però Però Eh Eh sì Aspetta No Volevo fare una cosa Volevo fare una cosa Fermati Ho fatto il contrattacco Non dovevo Fermati Volevo fare una cosa Volevo fare Mi innaccia a te A te Ho sbagliato Ho sbagliato Volevo fare la spinta E volevo leggere una cosa E ho sbagliato Click sbagliato Colpa mia Mi è colpa Questa Questa era che volevo fare Ho sbagliato L'attacco Questo funziona Guarda quanta vita Tiene questo maledetto Quanto tempo Non fa vedere però il turni Quanti mancano Non so quanti turni Ah turni rimasti due Ok Era dietro alla mia te Mo' io aumento la difesa Ah ancora Contrattacche Oh maledetto Cioè mi ha battuto un soldatino Mi ha battuto un soldatino del cavolo Si un attimo Ok porta a costo zero tutti Ok Ho guardato Sta buono Aspetta No questo mi serve Oh Grande Grande Ti prego di mica la batti Non ci credo raga Non ci credo Raga non ci credo Aspetta Ragazzi Raga Cioè io perdo No non è possibile No no ragazzi No non può essere Per tre Per tre di vita raga tre di vita no 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 tre di vita no perché non è possibile Ah ok qua no io non volevo fare questo In realtà Vabbè in realtà era finito il turno quindi teoricamente No il turno ormai era finito Quindi il prossimo è il nostro Ok Ahia infatti Stende a lui No perché Veramente per tre No raga perché veramente È acchiacciante Sì ho capito Lo so Lo so Devi stare calmo Calmo Dobbiamo farcela Non è possibile che non riesco a Ok 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 Ma è una mossa Per curiosità Era una mossa Era una mossa Ok ok Era una mossa Volevo capire se Veniva consigliata come mossa Ok No ragazzi Non è possibile Non è possibile Devo Devo C'è un C'è veramente un problema Di grave Perché per un colpo Ragazzi no O faccio critico O niente Cioè non è possibile No no Te togli Anzi ti faccio già Ripescaggio Già da qua Ecco Perfetto Non è per niente Ok Ok Forse ho fatto una cavolata Vediamo No perché Non posso Perdere Per un Raga Per un cacchio Di colpo Non posso Cioè non posso Rischiare veramente K.O Lo so che è un K.O Perfetto 17 Aspetta No invece no Ecco il cavolo perché Teoricamente Teoricamente Uh forse si Forse si 40 Mi togli sempre 60 Mi togli Ma mi spieghi perché Ma mi hai tolto 60 prima Cioè proprio deve per forza Rimanere a 3 E no però E no E no Aspetta No non Non ce sto su sta cosa Non ce sto su sta cosa Cioè non ci sto perché Non sto d'accordo Cioè cavolo Non mi da proprio la possibilità Non me lo da Devo giocare tutto sulla fortuna delle carte E senza parola Ehm Al diavolo Questo faccio un Remove a questo Perché non mi interessa Ah giusto Non lo posso manco fare Sì perché tanto Va a finire così Quello colpisce a me Ok Infortunio Lo so Questo l'ammassa Ovviamente Guarda il ritmo è lo stesso Ragazzi Sanguinamento Al diavolo Ok Sì lo so Lo so Lo so l'infortunio Come funziona State buoni Per due Pocca Sedici Vaffanculo Eppure uno Tu E vabbè Allora lo fate apposta Allora lo fate apposta Eh Niente ragazzi Niente Niente Perché Parte anche con tre di vita Anche con tre di vita Ragazzi Niente ragazzi Niente Che faccio qua Spingi energia Più uno Eh Non puoi farlo No no Devo capire C'è qualcosa che Aspetta Forse c'è una C'è una possibilità No c'è una possibilità No c'è una possibilità Oh le missioni Queste qua Questa qua Mi sta facendo rosicare Ma è tutta colpa Di quello stronzo Che mo sta per esplode Guarda questa merda Allora Facciamo così Aspetta Forse 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 Sottolineo Dico forse Ah perché Sono pure Insufficienti Sono pure Insufficienti Quindi devo per forza Fare questo Cioè capisco Io lo devo fare per forza Vi anima Eh no niente ragazzi Perché Che famo Niente Guarda Guarda quanto cazzo toglie Sessanta Mi togli sessanta Perché io poi dopo Non mi toglie sessanta Dopo Capito che mi fa incazzare Ah quaranta Ah ecco Guarda maledetto Che toglie solo Diciassette Ma dai Ma dai Ragazzi Ma i danni critici Non esistono No eh Danni critici Aspetta Di pescaggio No mi serve Devo avere il culo Ragazzi Di avere un Contrattacco Che non mi permette Di Se quando mai No niente ragazzi Niente ragazzi Ho perso Non ho Non ho fortuna Non ho poi fortuna Diciassette Giustamente E niente Sopravvive Ciao Ciao elicottero Ciao No eh Che è 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 No eh Questa si chiama Sfortuna di carte Però eh Sfortuna proprio Vabbè Ricominciamo Incontro No è La sfiga Si chiama Sfiga Si chiama Non si chiama Sfiga Allora io Ho Guarda Turni rimasti Quattro Quindi io Aprici Però è tosta Eh Porca miseria Allora Andiamo con ordine Togliamo di mezzo Assolutamente I tizi Che posso dare fastidio Vedete Guarda quanti sono Con Hunter Quindi a sto punto Tolgo uno Poi abbiamo un altro Che può dare fastidio A me Però C'è uno che dà fastidio Ad Iron Man Però voglio togliere di me Vedete Io devo per forza Togliere C'è uno che c'è C'è uno che c'è Zitto Forse ho tratto Ok Si scusate Che sto proprio Cercando Ok Andata Questa lo scudo Allora abbiamo Ok Questi li lasciamo No Questo ci penso Ad Iron Man Si Si Spazio il primo turno Andata Tanto lo so Che lo chiamano Al tir in forza Adesso fa male Ok Ok Lo sapevo Colpisce me Si E quello colpirà Ah Ok Fuori uno Che pareva Vabbè Quello era scontato Sanguinamento Intanto Quello si dovrebbe perdere Perché ha preso Sanguinamento Ha preso Perché mi incazzo Se non l'ha preso Ah Contrattacco Figurate Vabbè Ah Sanguinamento Meno male Almeno quello Allora Poi di mezzo Ok Contrattacco Vedete La maggior parte Sono tutti Ah Un po' Contro di me Però ci sta Qualcuno Aspetti Eh Sì Figurati Stordirlo mai Lui Eh Infatti Ha considerato Pure me Ora Perfetto Come Vabbè Ho preso Quello dell'elicottero Intanto Che serviva Ok Quello dell'elicottero Serviva Adesso Eh Sì Perché Il contrattacco Non lo fanno Ah giusto Lui non gliel'ho messo Il contrattacco Io ho messo Ad Iron Man Madonna Tutti contro di lei Adesso Dai Tutti contro di lei Proprio L'hanno Sfondate E mazzate Mamma mia Tutti odiano La Dark La Goth Rinforzi Ovviamente Come fosse Che mancavano I rinforzi Mettimi che esplodi Grazie Cioè In parte Non è che Soltanto contento Però Sanguinamento 16 18 Allora Sì Sì Lo so Aspetta Mamma mia Questo qua Che casino Così Così ci togliamo Quello che esplode Perché può essere Pericoloso Ce lo togliamo Dai piedi Sta cosa Ho rallentato Quindi il turno Ok Ok Il contrattacco Mi serve No ragazzi Io vi giuro Sono più concentrato A Mandare a quel paese Questo stronzo Lo ammetto Mi dispiace Ha la priorità Di essi aglientare Diventa Sta rompendo Ha tolto Ok Così c'è il sanguinamento E sti cavoli Perché mo mi sono stancato Ok Lei E' completamente Fottuta Cioè Lo metto là Per il momento Sto così Vediamo se riesco A fare qualcosa Sì Perché rischio Tantissimo Bel contrattacco Eh L'ammazzo L'ammazzo Raga Eh 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 Lo so Ragazzi Ma Ha priorità Quello Afforzamento Sì Quello Però Ancora Lo scudo Ce l'ha Quello Scronzo Oh Sì 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 Un attimo Porca miseria This Sì Sì Ho capito Però Devo Abbattermi Sì Assa Fa Sempre due Tutti Tutti Ironman E ti aumenta Lo scudo Ora vediamo Come si evolve Oh grande Vai Blade Eccoci qua Mi sono stancati Questo Abbattolo Quale Quale Quali 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 Qual Vero Vedete come Funzionava Raga Sono Sincero Sono Sincero Due Turni Vuol dire che Il prossimo Dobria Abbatte Quel Coso Ma Come Io Ho messo Lo scuso Doveva Resistere Ah Vulnerabilità E Vabbè Ma io Avevo Messa Avevo Aumentato Lo scudo Avevo Aumentato Lo scudo Ma Perché Ma Perché Non Capisco Avevo Messo Lo scudo Ok Distruggetemi Tutte e Due Non Mi Interessa Proprio Sanguinamento Ancora Allora Il 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 Non Mi Interessa Proprio Basta Lo scolo Il Il Mi Sono Rotto Trovo Piccolo E Manca Un turno Sempre Sola Storia Sempre Solita Cazzo De Storia Ma No Ma No Ma No E Che Cavolo Sempre All'ultimo Non è Possibile Non è Possibile Non è Possibile Una cosa Del genere E Improponibile No niente Poi ho Persa Non si può Caricare Prima No Vedi Non si può E Vabbè Niente Niente Ragazzi È persa Di nuovo No Ma Non è Fattibile Aspetta Forse Come no Con mosse Finite Figurati Figurati Vabbè Vabbè No E Vabbè Va bene Tanto Tanto No Eh Ma Merda Vabbè Ragazzi La Ripartiamo Però Cerchiamo di farlo nel prossimo video No veramente Me sto esaurendo Me sto esaurendo Non me l'aspettavo Perché Se avessi avessi avuto la questione della cura Con Hunter Non avrei avuto sta difficoltà Sì Se poi la gente dice Ah io A me mancano i giochi di Mixcom 2 Le partite che durano due ore un'ora Ecco Ah ma Eh Qui del 38 Prostolito Passa e chiudo Baraga